Ciao a tutti ragazzi sono Yakidale e oggi siamo qui in questo nuovo video, in questa nuova sfida che sinceramente non so né se verrà né come verrà spero comunque che appreziate l'originalità perché trovare idee nuove dopo aver fatto praticamente tutto è veramente difficile quindi magari se vi piace questa idea mettete tanti bei mi piace così magari potremmo fare nuovi episodi di questo genere in cosa consisterà questa sfida possiamo chiamarla? semplicemente nel scrivere delle parole utilizzando le truppe di clash of clans quindi mentre attacchiamo dobbiamo scrivere delle parole e intanto cercare di fare una o due stelle non è niente di complicato, non è niente di troppo difficile quindi per iniziare usiamo i barbari e direi che possiamo cercare qualcuno da attaccare così vediamo un po' cosa fare mi servirò molto probabilmente di questa penna con il touch così magari riusciamo a fare qualcosa di meglio ragazzi non ho ancora trovato nessuno da attaccare però ho fatto una piccola modifica alle impostazioni quindi ora vedete quello che tocco tipo vedete quel puntino lì lo vedete questo per farvi capire un po' meglio dove metterò le truppe e cose del genere e magari ditemi se lo volete anche nei video normali direi che possiamo attaccare questo qua allora 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 vediamo di scrivere una parola molto molto semplice che sicuramente è utilizzata tantissimo che è... no non lo voglio attaccare ok ragazzi questo qua ci piace ci piace tantissimo quindi vediamo di zoomare un po' e direi che come prima parola possiamo scrivere ciao quindi una cosa del genere allora prima distruggiamo queste cosette qua che ci danno fastidio allora vai c... i... no... no ok fail 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 veloci dobbiamo essere c... no così no... si sta rivelando più difficile del previsto allora proviamo a scrivere tipo a lettere separate questa è la c... poi facciamo la i... poi facciamo... la a... più o meno no non si riesce... e poi facciamo la o... fermi tutti direi che questo non è assolutamente il villaggio adatto quindi torno a casa mi rifaccio le truppe e ci vediamo tra poco ma perché mi devo inventare queste cose perché questo qui sì che è il villaggio giusto ragazzi eh 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 allora zoomiamo qua e vediamo di scrivere ciao c... i... a... o... l'idea era quella più o meno vediamo di fare almeno la j di yakidale vediamo se riusciamo a farla tipo veloci veloci sì 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 ci sta ci sta ci sta la la facciamo tipo così... vabbè la i è molto 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 easy proviamo a fare tipo un cuoricino visto che siamo molto molto teneri dai 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 possiamo riprovare il cuoricino che ci sta guardate che teneri informazione cuoricino mettiamo il re barbaro intanto così giusto per... faccina... smile... cosa sto facendo ragazzi cosa sto facendo allora vediamo se indovinate quello che scrivo il primo che indovina quello che scrivo vince un gelato scrivete qui sotto nei commenti più o meno no aspettate che la rifaccio questa è la prima lettera sì 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 si capisce ragazzi questa è la seconda e questa è la terza aspettate 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 sì che figo lol 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 no che cosa divertente ragazzi abbiamo fatto 28% però vabbè dai pensavo andasse peggio almeno qualcosa siamo riusciti a farlo proviamo così no giusto per curiosità adesso io faccio servirebbero delle truppe lente ok ho deciso ragazzi per fare una cosa più seria e magari provare a fare qualche scritta che resta dobbiamo attaccare con tanti bei giganti però abbiamo solo 25 gemme perfetto 15 15 e 7 abbiamo finito le gemme yeeeh ah no abbiamo una casa di gemme molto molto bene dai usiamola giganti ok perfetto siamo pronti speriamo di trovare qualche villaggio molto molto libero da un lato sarebbe una cosa ecco ecco mamma mia neanche farlo apposta ragazzi prendiamo la nostra pennina e qua facciamo una cosa seria allora c i a o ok l'idea era buona ma sapete che proviamo anche ad attaccare seriamente tipo gli mettiamo una furia qua e gli mettiamo una cura più avanti di là facciamo una faccina yeee la faccina proviamo a fare un'altra faccina di qualche genere no venuta malissimo direi metterei un'altra cura tipo qua e con questi 6 giganti facciamo una cosa facciamo? non lo so ragazzi è un video del cavolo perché mi vengono queste idee stupide? ah intanto attenzione perché qua i giganti stanno distruggendo tutto se avessi avuto un'altra cura l'avrei messa ai 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 non morite giganti no dai distruggetela si ce la potete fare bravi giganti dai dai ok 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 ci siamo ragazzi ci siamo si può tentare anche di fare un attacco i giganti vabbè io li uso qua perché magari proviamo a fare non dico 100% però come distruggere tutto il villaggio senza prendere neanche una risorsa connessione persa dai giusto per raggiungere quindi ragazzi abbiamo visto che effettivamente non è impossibile però è molto molto difficile scrivere delle cose su clash of clans con le truppe lo so che è stato un po' una cavolata lo so che è stato un po' un video del cavolo che non è servito proprio a niente però spero che abbiate apprezzato l'originalità perché comunque dai io mi sono impegnato magari consigliatemi altre sfide di questo genere originali che nessuno ha fatto che nessuno ha mai visto e tutto quello che volete come dico sempre i commenti sono fatti per questo quindi non abbiate paura di utilizzarli vi ricordo di passare per tutti i social network link in descrizione quindi instagram facebook e whatsapp e niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video ciao